Ciao a tutti, io sono Barbara Nappini, presidente Slow Food Italia, voglio parlarvi di cibo, ma anche di spreco e di consapevolezza, a partire da una considerazione, che il cibo diventa noi. Questo dovrebbe bastare a farcene appassionare smodatamente, invece del cibo non sappiamo quasi nulla. In qualche decennio di banalizzazione del cibo abbiamo perso molte competenze, la gestione di una dispensa, la conoscenza delle materie prime, la capacità di trasformare, cucinare, la gestione dello spreco. In una logica che sembra valutare solo il cibo per il prezzo che ha, quindi in una logica basata sul profitto, con l'unico obiettivo di mantenere un prezzo basso, accettiamo lo sfruttamento, accettiamo lo sfruttamento di persone, animali, e accettiamo fino anche la morte, non posso non ricordare il terribile episodio di Sadnam Singh, morto a soli 31 anni per garantire prezzi bassi. Accettiamo lo sfruttamento di risorse naturali necessarie e finite. Accettiamo il degrado ambientale, climatico, ma anche sociale a cui siamo giunti. Quindi vorremmo ribaltare il paradigma e provare ad adottare una logica invece impernata sulla vita, una biologica, una logica che tutela la vita invece che il lucro. E allora in questo senso da quasi 40 anni lavoriamo nelle scuole, portiamo gli orti che sono un grande strumento di consapevolezza, che combattono la povertà educativa e anche la povertà alimentare in qualche modo. Sono utilissimi a costruire un dialogo corretto con la natura e con la nostra alimentazione. E vorremmo garantire una corretta educazione alimentare a tutte le bambine e di bambini. Quindi abbiamo promosso un appello proprio per l'introduzione dell'educazione alimentare nelle scuole. Infine a Terra Madre, Salone del Gusto, dal 26 al 30 settembre, a Parco d'Ora, vi aspettiamo tutti, ingresso libero. Ecco, in quei cinque giorni parleremo di questo e di molto altro. Parleremo appunto di cibo, di sistema alimentare, ma parleremo anche di coscienza, parleremo di natura. Il nostro clima è We Are Nature, e quindi vorremmo riportare il nostro punto di vista all'interno della natura piuttosto che alieno da essa. Vi aspettiamo tutti, saranno anche cinque giorni di divertimento, di festa, di degustazione ovviamente. Vi aspettiamo con i delegati di Terra Madre e con tutta la rete italiana e spero di vedervi lì. Grazie.